Allora i bambini presenteranno, prima e prima vita della scuola Cesare Battisti, istituto Randaccio, il giro tondo della solidarietà. Sì, è il nuovo campione mondiale d'Italia. Buongiorno a Monti. Pronti? Giro, giro tondo della scuola Battisti, qui non siamo mai tristi, mai, mai, mai. Speriamo a scuola volentieri, oggi più di lei, siamo sempre felici, viva gli amici. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la casa, casca la chiesa, casca la lavagna, casca la montagna, casca la terra, tutti giù per terra. Giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano. Giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano. Giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano. Ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano. Giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano. Giro, giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano piano. Giro, giro tondo, c'è stato il finimondo, ma io ti do una mano, ti aiuto piano piano.